scatola arrivata adesso si può fare il video ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video attenzione ragazzi nuova attrezzatura come avete letto dal titolo però ragazzi attenzione prima di iniziare col video mi raccomando lasciate like al video condividetelo iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti attivate la campanella e lasciatemi anche un bel commento questo unboxing vedremo esche, canna, mulinello e filo e come sempre le cose più interessanti stanno alla fine quindi mi raccomando ragazzi guardate tutto il video fino alla fine e intanto direi via con la sigla ci può già intravedere qualcosa e una scatola ma prima voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto dovete sapere che qualche settimana fa su Instagram mi è arrivato un messaggio da un certo Matteo che ha un cognome poco conosciuto non penso che nessuno di voi lo conosca fa di cognome Tubertini e allora mi dice ciao come va bene dai si tira avanti si cerca di fare qualche video senti ti piacerebbe riscarico sai che Tubertini la conversazione è andata avanti ci sono stati vari sviluppi e il risultato è questo tanto sposto un attimo comunque Matteo ci tengo a ringrazzarti e salutarti dato che sei anche un mio grande fan vediamo un po' qua cosa mi è arrivato prima di tutto troviamo questa buccona dove si apre eccola qua con questa super felpa Tubertini guardate che bella che grafica ragazzi mi fa impazzire a me fa impazzire questa grafica qua questa felpetta adesso non la indosso però aspettate vedo qualcos'altro qua sotto infatti abbiamo magliettina cioè vi dico che c'è un mezzo scatolone di roba e anche super magliettina seica che tra l'altro adesso ho notato guardate questo bellissimo dettaglio qua dietro sulla scritta seica guardate qua spettacolare allora allora mettiamola su comoda leggera per l'estate soprattutto e infatti mettiamo su anche la felpa dai ok questo perché il nero mi piace e anche il nero e giallo soprattutto io ce ne andrei a lavoro questa cosa è massa stile anche questa è una felpetta abbastanza leggera però comunque tiene cioè non è un felpone pile però ci sta mi raccomando ragazzi andate a seguire Tubertini su facebook e instagram e su instagram vedrete anche presto delle mie catture con questa cosa e soprattutto anche in anteprima rispetto al mio profilo però attenzione ragazzi non è finita qua ci saranno altre sorprese e quindi ragazzi andate sul profilo instagram di Tubertini e andate a scrivergli sotto l'ultima foto di instagram mi ha mandato taggandomi TheFishmanMax mi raccomando ragazzi ci conto vediamo un po' perché c'è un bordello di roba qua da farvi vedere che comunque vedrete tra poco in azione in un contesto molto speciale qua abbiamo 5 shad tb04 eccoli qua 2 pollici e mezzo 5 pezzi in colorazione un green pumpkin con flake rossi e azzurri andiamo a tirarlo fuori un bel paddle adatto a molti predatori possiamo vedere una coda molto mobile e un bel colpo lamellare come vedete si muove da sola questo shad può essere utilizzato per varie specie tra quali cavedani reali perca bus spigole trote di tutto può essere utilizzato quindi ci vogliamo vedere un bel realone over 40 giusto e andiamo avanti perché c'è tanta tanta roba secondo abbiamo anche delle ninfette questa volta colorazione rosa anche tubertini ha creato queste soluzioni per light rock fishing e light game queste le vedo molto adatte ad andare a cappe queste però in generale sono quelle con i filamenti qua davanti con i barvigli come vogliamo chiamarli più lunghi il che secondo me può essere molto positivo perché possono creare movimenti più morbidi e meno frenetici quindi magari su pesce sospettoso possono essere letali continuando abbiamo questi shadini color sempre rosa andiamo a vedere un attimo anche questo modello corpo bello duro e resistente molto buono per pesci ben dentuti perché questa cosa è molto ma molto resistente soprattutto agli attacchi di pesci tipo perca e magari anche lucettini andando avanti stesso shad colorazione bianca questo molto adatto per imitare il pesce foraggio tra l'altro c'è scritto forme baru fatti un po' per gli approcci in acqua salata però questi van benissimo per reali trote cavi di danie and so andiamo avanti altre ninfette diciamo gamberetti ninfette questa volta con una colorazione verde con flake verdi scuri e oro andiamo a vedere un po' spero di andarli a utilizzare il prima possibile perché ho delle big news in teoria non so se lo state già se l'avete già visto o dovete ancora vederlo quindi bisogna vedere un attimo comunque se nel caso l'avete già visto sapete già poi abbiamo altri shad colorazione nera in questo caso nera con flake oro veramente bella comunque volevo farvi notare comunque volevo farvi notare che la parte della coda è molto ma molto sottile e ha un paddle abbastanza pronunciato guardate qua che razza di movimento può fare quindi anche se ha la gomma dura fa comunque vibrazioni next we have ancora ninfetta questa volta colorazione bianca pura e adatta ad acque chiare andiamo avanti andiamo avanti con le esche allora continuiamo con gli shad questa vedete è la nuova confezione che tra l'altro si chiamano mini worms questi se volete cercarli sono i mini worms adesso beh si vede l'ho puntato due secondi alla luce e si può vedere già il fattore fluo questi adatti per la pesca notturna sono fluo adesso vediamo ve ne tiro fuori uno perché la busta riflette un po' e l'ho messi un attimo la lampadina ho notato subito che me ne avevano luce propria la colorazione è bianca con flecche argentati se guardate qua si può un po' vedere ottimo per andare a pescare notturna nuova varietà di esca TB23 questa volta colorazione giallo fluo esche per il light game e soprattutto light rock fishing come vedete un corpo piccolo e mobile volendo anche questo a drop shot fa danni è morbidissimo struttura lamellare gomma morbida ma elastica con coda bifurcuta cioè guardate guardate cioè questa l'ineschia drop shot fa noi danni cioè questo lanci prendi il pesce è molto ma molto sinuosa come esca avanti altri mini worm rosa veramente curioso di provarli andiamo avanti abbiamo un metal jig andiamo a vedere un attimo cos'è è il searock metal jig da 35 mm 7 grammi colorazione rosa fucsia andiamo a tirarlo fuori va là questo reali e anche qualcos'altro lo vedrete presto eccolo qui in tutta la sua piccolezza e bellezza presentazione molto compatta a me ricorda una piccola acciuga adatta a molte specie sia in acqua dolce che salata questa forma qua e soprattutto adatta al rock fishing scavicchi ma non apra e qua abbiamo altri mini worms fluo stessa colorazione di prima sempre fluo poi qui abbiamo un altro worm questa volta colorazione nera questa invece ha un corpo più unito senza lamelle e coda singola questo ha una miscola leggermente più dura però guardate qua cudina super mobile anche questo drop shot ma comunque questo a testina fa il suo dovere altro worm come prima stesso modello colorazione verde verde menta andiamo avanti sempre comunque sono 12 pezzi questa volta colorazione bianca guardate qua anche questi in inverno comunque per imitare pesce foraggio sono detali questa volta abbiamo il wormettino bicoda col colpo lamellare colorazione bianca diciamo che ne abbiamo di roba a provare qua andiamo avanti con altri mini worm colorazione questa volta giallo è un giallo tipo lime con flake rossi devo andare a pescare cioè a me vedere tutta questa bella roba qua da imbustata e pronta ad essere innescata mi fa voglia adesso prendo accendo la macchina vado a pescare perché mi fa tanta voglia a provare andando avanti si ritorna con lo shad da 2.8 tb04 questa volta un watermelon con flake rossi e neri sempre 5 pezzi come già detto prima super mobile e adatto a perca sembra lo stesso modello con la prima colorazione comunque lunghezza 2.8 o 7 centimetri e mezzo bisogna andare a pescare qua bisogna provare tutta sta roba ci sono troppe booster andando avanti altri 5 pezzi di shad tb04 watermelon continuiamo con i mini worms altro giallo altri mini worms stavolta bianchi adesso qua abbiamo gli ultimi 4 esche allora intanto abbiamo un sea rock metal jig da 7 grammi 35 mm 3 centimetri e mezzo identico al precedente però con un'altra colorazione qua abbiamo un rosso diciamo gallinella una colorazione che ricorda un po' la gallinella molto bella come livrea entrambe le parti inferiori di tutti e due i jig hanno un inserto fluo sotto in modo che si possa caricare anche nelle acque un po' più profonde o magari di notte possiamo utilizzarli al meglio andiamo avanti ultimo micro jig abbiamo un altro sea rock metal jig altra colorazione questa davvero davvero carina abbiamo una testa tenente a rosa fucsia con corpo con corpo argentato e coda gialla e sempre questo con la parte fluo 3 bei micro jig infine le ultime due esche abbiamo l'illatac colorazione naturale verde una testa con disegno molto particolare come vedete ha una diciamo bocca in cui entra l'acqua probabilmente per fare vibrazioni o questioni idrodinamiche magari si muove un po' qualcosa oppure anche per impiantarsi sul fondo andremo a provarle per questo corpo bello mobile questa ha reali ha reali questa e questa testina qua è da 6 grammi e mezzo questa la voglio vedere in azione no e poi abbiamo la sua variante rosa adesso siamo quasi alla fine manca fili molinello e canna allora andiamo con i fili prima di tutto una bella bobina da 150 metri del gorilla silver 018 un filo che ho usato dappertutto fa un super lavoro una tenuta di 5 chili e 4 e si sentono davvero tanto perché come avete visto anche nella versione 014 ha tenuto testa a una trota veramente incavolata e pesante l'avete visto con la spigola 5 chili un filo comunque già stressato perché comunque 8 ore di pesca solo in quella giornata che comunque ne aveva visto anche altro e su rocce eppure ha tenuto questo non è un fluorocarbon né un nylon è un fluorine è una via di mezzo che riesce a combinare le migliori qualità di entrambi abbiamo un filo morbido però molto ma molto resistente questo l'avete già visto in altri miei video quindi lo conoscete andando avanti abbiamo un bel trecciatino un bel viral dello 008 tenuta di 6,4 kg e 150 metri andiamo a vederlo che colore è è un bel giallo non si capisce che adoro il giallo eh no guardate qua tra poco andrò a rimbobinarlo e adesso andiamo a vedere su cosa andrò a rimbobinarlo andiamo a vedere qua tan 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 arias taglia 2000 è un mulinello veramente veramente bello questa la vado a mettere là insieme alla collezione di scatole realmente è un'estetica fenomenale è un mulinello nato per la pesca a trautaria ed era il mulinello che avevo intenzione di mettere su la Tubertini Finesse Limited guardate qua bobina super alleggerita guardate che bello 5 cuscinetti a sfera più 1 bella frizione tanto manovella comoda bobina super alleggerita guardate che forata che è ci viene fornita la bobina match ovvero quella che ha meno capienza in modo che con questo modello qua non dobbiamo neanche fare per esempio lo spezzone finale infatti essendo un mulinello adatto a trautaria non c'è bisogno di fare lunghi lanci e quindi la nostra bobina non dovrà essere super capiente allora la frizione stavo dicendo si sente molto perché ti arriva sulle dita il feeling di quanto vai a stringere per capire subito quanto sarà chiusa la frizione abbiamo una bella bella leggera con manopola in sughero che adesso vado a scartare perché il sughero mi piace molto come sensazione ha una max drag da 2 kg e mezzo devo dire che comunque molto scorrevole leggero mulinello molto bello anche come stile come vedete non è un classico mulinello sembra uscito dal boda qualcosa un misto old e new è veramente carino ah ecco cosa che non si vedeva prima con la fascetta ha un piccolo intaglio sulla bobina per mettere il filo in modo da imbobinarlo bene e qua andrà fatto il nodo devo dire veramente un signor mulinello andiamo ad appoggiarlo e quindi a farvi vedere la canna guardate che razza di cimino veramente sottile apposta per il light bel fusto allora intanto possiamo notare subito solid tip ovvero riporto quindi riporto con un vettino in carbonio pieno e super sensibile guardate qua vediamo che canna è qua è la optical optical è una canna che non costa neanche troppo adatta alle esigenze di tutti come ho detto prima è una solid tip è una canna studiata per pescare a trote comunque anche trotare come vedete il manico è veramente corto come vedete dal blocco del mulinello alla fine della canna sono 20 centimetri molto comodo come vedete qua è studiata per la pesca alla trota comunque con esche siliconiche e spoon praticamente il punto zero è esattamente sul mulinello come vedete oscillazioni pochissime io non sto neanche tenendo forte non sto spingendo sentiamo un po' la canna come si comporta questa è la versione da 7 piedi e 3 con casting 2,12 grammi quindi molto molto leggera ma volendo ci sono due versioni ancora più leggeri la 0,4 grammi che va bene per soprattutto trotare e light rock fishing e anche la 1,6 però a me serviva una canna che fosse in grado di fare un bottidutto quindi anche lanciare magari qualche piccolo mino qualche piccolo jerk e questa posso utilizzarla con spoon con piccoli jerk soprattutto gomma gomma come vedete ne ho da lanciare in acqua se non preso i due a caso è una canna molto veloce con un'azione che sta sulla punta posso vedere da qua molto inattiva punta vabbè solid quindi deve essere quella morbida ma comunque una bella progressione di canna questa azione qua si adatta molto a pescare la testina e drop shot soprattutto con la solid sarei curioso di testarla sulle carpe e metterla alla prova ma anche su pesche più leggere dove la sensibilità è molto importante e una canna solid tip deve essere ma sono sicuro vedendo la sottilezza della punta e anche la sua morbidezza quindi ragazzi tutta questa cosa canna mulinello filo esche eccetera eccetera tutto quello che avete visto lo vedrete presto in azione e anche che azione bene ragazzi quindi dopo tutto questo po' di roba che vedete qua direi che per questo video è tutto come vedete le premesse ci sono adesso bisogna solo portarle in pesca mi raccomando lasciate like condividete il video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti presto vedrete i video per questo video è tutto ciao a tutti iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale